Con la presentazione del report integrato 2022 certifichiamo i numeri di Ancilab dell'anno che si è appena concluso, un anno importante che vede un valore della produzione tornare a dei numeri superiori addirittura al periodo pandemico, 6,3 milioni di euro. Siamo riusciti a procedere speditamente, a collaborare con oltre mille comuni e oggi Ancilab è addirittura presente in 16 regioni italiane. Ma la nostra azienda non è attenta soltanto ai numeri, è attenta anche alle persone e al contesto che ci circonda. E' per questo che noi accompagniamo i comuni in un'ottica di sostenibilità. Siamo molto attenti a quelli che sono i gold dell'agenda 2030 e questa è la direzione in cui stiamo lavorando. Il percorso che abbiamo avviato per la certificazione della parità di genere ne è un esempio, ma questo noi lo stiamo facendo non soltanto a parole all'interno dei convegni, nei momenti di confronto, ma lo stiamo facendo nei fatti. Il report integrato lo abbiamo denominato le competenze al centro. Questa scelta non è casuale, abbiamo anticipato quello che è l'anno delle competenze europee, quindi il 2023, ma abbiamo messo al centro quelli che sono i valori fondanti di questa azienda. Non soltanto la produzione di servizi, ma la valorizzazione delle persone. Nel 2022 abbiamo svolto quasi 6 mila ore di formazione ai dipendenti comunali e non solo. Questo certifica che la nostra azienda è attiva, che sta svolgendo un servizio qualitativo ed è per questo che noi ribadiamo che le competenze vanno messe al centro. Le persone sono al centro di questa progettualità e di quello che faremo, per il futuro, per i comuni e non solo.